Visto, segnalato e risolto nel giro di pochissime ore. Il nostro sito aveva documentato il taglio doloso della catena posta all'accesso di via San Giorgio da piazza Plebiscito con il contestuale passaggio di auto. La polizia locale è già intervenuta per il suo ripristino, servendosi anche in questo caso l'impresa Scaringi, la stessa che sta rimuovendo cartelloni abusivi e ferraglie inutili un po' dappertutto. In questo caso invece è stata compiuta qualcosa più di una riparazione perché la catena adesso non ha più il lucchetto e resterà fissa fino al nuovo provvedimento. Un atto materiale simbolico quindi allo stesso tempo. Su indicazione del comandante abbiamo deciso di togliere il lucchetto e di mettere una catena fissa, quindi non sarà più possibile rimuoverla quando ci sarà bisogno. Per il momento mettiamo la catena fissa e poi quando avremo la necessità per le processioni e quant'altro di rimuoverla vedremo. Però almeno cerchiamo di dare un segnale perché speriamo che così facendo almeno la gente possa capire qualcosa in più. A questo punto però si riducono ulteriormente gli spazi di fruizione per chi in via San Giorgio ci vive e lavora. Come si farà adesso con un lato della strada completamente chiuso? Fino alle 11 da via Mario Pagano per i residenti e per le operazioni di carico e scarico ma doveva essere così anche con la catena da questo lato perché il lucchetto serviva solo per rimuovere la catena in particolari condizioni non per il carico e lo scarico perché l'ingresso è solo da via Mario Pagano. Ma il futuro qui come altrove sarà sicuramente senza catene. Basterà un occhio digitale che sorvegli e registri per recapitare direttamente a casa degli automobilisti indisciplinati multe pesanti. Da sei mesi esiste un'ordinanza del sindaco per l'integrazione del servizio di videosorveglianza con altri tre siti. Piazza Pleviscito con annesso appunto l'accesso a via San Giorgio. Piazza Gradenigo anche e soprattutto come mezzo deterrente per i numerosi episodi di micro criminalità che vi si verificano. Il piazzale antistante l'ingresso del palazzo di città. Sei mesi passati purtroppo in vano ma adesso è davvero il momento di stringere tempi. I posizionamenti sono stati già individuati. L'unico problema dell'amite è che quello doveva porre in essere le procedure di gara che servivano per individuare l'operatore che doveva poi venire ad installare le telecamere. Ma entro la settimana prossima sia qui in via San Giorgio che in piazza Gradenico verranno montate le telecamere.